eccoci qua per i nostri tre minuti di cosa sono tre minuti di sono tre minuti dove ne parliamo dei nostri prodotti che possono essere decal accessori o addirittura 3d in questo caso oggi parliamo di decal e in particolar modo del kit 67 455 in due versioni normale o con la lettera g che sta a significare gold quindi 67 455 g è una grafica dedicata a un cinquantesimo ovviamente le due grafiche partono da una bandiera ovviamente di colori diversi dove abbiamo la scritta ilsa 50 anni e gli anni ovviamente che valgono per il cinquantesimo dal 97 al 2017 vi ricordo il modello che è un volvo f h4 nuova generazione ma parliamo nel dettaglio del nostro kit 67 455 ho preso come esempio il colore nero quindi andrà come vedete sul volvo color oro ma prendiamo nello specifico prendiamo la decal numero 1 che è questa qui andrà ovviamente sulla parte frontale sopra il vetro del nostro modello mentre la decal numero 2 che è la livrea quella vera e propria le due bandiere che vanno ovviamente lateralmente una da una parte una dall'altra poi abbiamo la decal numero 3 che sono ovviamente le potenze eccole qui e andranno qui insieme alla bandiera subito dopo lo sportello e la numero 4 invece è la targhetta proprio commemorativa della ilsa del cinquantesimo e va subito sotto la livrea sullo sportello stesso in questa posizione qui ed sono queste poi nel kit io ho messo anche le scritte volvo in bianco sono il 5 saranno i mat flap classici da mettere dietro e il numero 6 invece in questo caso sono i caperi frangenti da mettere dietro volendo il modello in particolar modo è il numero 7 ha anche delle tabelle delle scritte con scritto a ilsa che vanno messo a posto dei dati frangenti anche queste dietro e posto del mat flap praticamente sono dei mat flap gialli da attaccare dietro al posto della scritta volvo quindi può decidere e il numero 8 in questo caso sono dei loghi volvo che possono essere usati dove uno più preferisce anche volendo sono in bianco e quindi può mettere anche su questa parte nero pur addirittura li può mettere dentro o addirittura anche sui seggiolini internamente questo è grosso modo come si può montare il nostro kit e spero che sia piaciuto ricordatevi ci potete trovare anche sulla nostra pagina facebook max model ma anche su youtube e anche su instagram potete trovare questo articolo sul nostro sito www max model.it ed è il kit 67 455 normale e con la lettera g naturalmente lo potete trovare anche in altre scale 187 e una 50 alla prossima tre minuti di ciao